Ciao e bentornato, per dimostrarti che effettivamente l'iscrizione a Influgramer funziona ti faccio vedere quante collaborazioni abbiamo ottenuto nel giro di qualche giorno dopo aver inviato la richiesta di collaborazione e ti faccio vedere alcune di queste email ovviamente vengono tutte le Influgramer e sono brand che vogliono essere riposizionati quindi ti chiedono di fare un acquisto oppure ti danno dei prodotti gratuiti tu dovrai usufruirne o acquistarli e poi riproporli a quelli che sono i tuoi follower o le persone che ti seguono, i tuoi amici, in modo tale da generare commissioni questo è proprio quello che è il cuore dell'influencer marketing quindi qui abbiamo proposte di tutti i tipi e le abbiamo mandate insieme le richieste nel video precedente quindi questo vuol dire che funziona e soprattutto guardate qua un credito addirittura di 40€ che non è per niente male e soprattutto guadagnerei il 15% che non è assolutamente male quindi la cosa positiva è anche per i follower perché ovviamente otterranno un bonus di 20€ e quindi diciamo questo è quanto cioè voi dovete, se volete investire in questa nuova professione l'unica cosa che dovreste fare è pagare quell'abbonamento di 9€ che è veramente un costo irrisorio e poi generare collaborazioni ovviamente quello che vi consiglio è non accettatele tutte cioè le più convenienti per voi ovviamente cioè mettete su un piano e ragionate sempre in funzione del ROI quindi del ritorno sull'investimento certo è che per generare guadagni all'inizio dobbiamo investire un piccolo budget quindi quello che vi consiglio scegliete la nicchia ideale per voi e partite comunque questi sono i miei risultati e niente spero che comunque questo sia stato ulteriormente di aiuto anche a capire che effettivamente funziona e generare così tante collaborazioni nel giro di veramente pochissimi giorni può fare la differenza per voi e per il vostro business quindi l'unica cosa che vi consiglio è tenete d'occhio il tutto e soprattutto scegliete la nicchia specifica per voi che sia coerente con quello che già fate e chi siete ovviamente quindi ci vediamo al prossimo video con il prossimo argomento